Alessandra Abbrosio, ossessionata dai dettagli sexy Vittorias Secret ha puntato sulla sua modella più sexy per una nuova campagna, ecco Alessandra Abbrosio, ossessionata da ogni dettaglio sensuale. Così recita il nuovo spot della Maison di lingerie più in del momento e la brasiliana incendia Instagram con questi scatti. Alessandra Abbrosio, che ossessione per i dettagli sexy. Forse lo avremmo affermato anche prima, ma ora, dopo aver visto questa Alessandra Abbrosio superhot, siamo più che certi che sia ossessionata dai dettagli sexy. Di cosa stiamo parlando? Ecco il nuovo spot di Vittorias Secret, che sta affilando pizzi e ricami per nuove collezioni e per l'attesissimo Wintershow di dicembre. Se alcuni grandi nomi del panorama della moda sono stati esclusi per la prossima sfilata, come quello di Bianca Balti, ci sono anche tante conferme come quella, ovviamente, della modella brasiliana, che non vede l'ora di calcare quella passerella. Intanto, però, la splendida 36enne si riscalda, anzi, incendia il web con questo nuovo spot che la vede come protagonista della nuova campagna di Vittorias Secret. Obsessed with the very sexy detail recita lo slogan e, in sottofondo, ecco la sensualissima silhouette di Alessandra, che posa sinuosa in una lingerie da far girare la testa. In primo piano, in effetti, ci sono dei dettagli super sexy, come il pizzo del reggiseno a balconcino o il tulle nero che riveste lo strettissimo corpetto che le abbraccia la snella vita. Non sfuggono agli occhi dei fan più appassionati anche le lunghissime gambe della brasiliana, ai cui piedi spiccano tacchi super vertiginosi, in un conturbante pendant con l'outfit piuttosto minima. Il girato si chiude su un misterioso coming zone, e le ammiratrici della Ambrosio non vi dono l'ora di saperne di più sulla nuova collezione di intimo di Vittorias Secret. Alessandra Ambrosio, in Colorado per Victoria's Secret. Lo splendido spot che vede come protagonista una Alessandra Ambrosio ossessionata da questi dettagli sexy arriva dopo un altrettanto sensuale shooting fotografico, che ha visto la brasiliana impegnata in Colorado. Per l'occasione, lei e alcuni angeli di Victoria's Secret hanno posato come meravigliose covgirl su un panorama naturale mozzafiato e anche se a lasciare tutti a bocca aperta sono stati proprio gli outfit succinti delle modelle. In primo piano, ovviamente, ci sono le silhouette perfette delle ragazze che custodiscono il segreto di Victoria, rivestite di lingerie di vario colore e foggia, ma sempre adornate dal tipico pizzo, marchio della celebre Maison. Per l'occasione, poi, a rendere tutto ancora più intrigante ci sono cappelli texani e stivali in pendant, alti fino al ginocchio. Alessandra Ambrosio posa per gli scatti della campagna, insieme a Sara Sampaio, Stella Maxwell e a tante altre, e sono ancora di più i fan a cui gira la testa guardandole. Chissà cosa succederà a dicembre, quando tutte le modelle dalle ali angeliche calcheranno l'ambitissima passerella che ha visto tante escluse quest'anno, ma anche molte new entry. Un esempio? La stupenda modella britannica Alexina Graham, di appena 26 anni, che porterà la sua chioma rosso fuoco on stage, perfettamente in tema con le tinte tipiche del periodo di Natale. Accanto a lei, poi, arriva un'altra carioca come la Ambrosio, Bruna Lirio, che incanterà gli spettatori con la sua allure esotica. .